Delusione d'amore. Oggi parliamo di delusioni d'amore in sei punti dal punto di vista psicologico. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta e lavoro da bla bla bla. Sono qui su YouTube perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza d'analisi, deve e può arrivare a tutti. Che cos'è una delusione? Innanzitutto partirei dall'etimologia di delusione, deludere. Ovvero, deludere nel senso sia di scherzare, di giocare, che di ingannare. E quindi è come se la delusione andasse ad essere una dinamica che oscilla tra questi due poli, gioco e inganno. Gioco e inganno. E questo accade sia da un lato che dall'altro della relazione, ovvero ci si delude in due spesso. Comunque, passiamo alle riflessioni sulla delusione. Prima riflessione. Questa più che una riflessione è un consiglio. Ascoltate la canzone di Marrakesh Crudelia. Ci va giù pesantissimo. Però secondo me è un buon punto per iniziare a elaborare una delusione d'amore. Perché poi fondamentalmente il tema è quello. Sì, parliamo di delusione, ma che ci devo fare con sta delusione? A che mi serve? Ecco. Quella canzone è uno sfogo dal quale si può partire per elaborare una delusione in una relazione. Illusione. E' un gioco di parole importante, ma se vieni deluso vuol dire che eri illuso. Che stavi dentro quel ludo, quel gioco. E ci stavi dentro a delle regole, però, che non erano aderenti al reale. Non corrispondevano a ciò che c'era veramente. E allora io più mi illudo all'interno di una relazione, quindi più chiudo in occhio, più faccio finta di niente, più dico no, ma non è così, più ci voglio credere, più ci spero, più perdono, più provo a rimettere le cose a posto e più mi sto illudendo, più sto aumentando la quota di illusione e quindi anche la quota di delusione. Come immaginate che l'illusione è tipo una scala che sale, 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 arrivo dal punto più alto, bam, dell'illusione, e più ti sei illuso, più la botta che dai per terra è forte, è pesante. Ovviamente spesso l'illusione è cosciente, ma anche incosciente, può essere cosciente o incosciente. La qualità poi della caduta non cambia. Rabbia. La rabbia è un processo fondamentale, come affermava Jeanette Paris in Cuori Spezzati, stupendo libro per i delusi d'amore, ve lo consiglio, che diceva chi è deluso in amore, quando finisce un amore, significa che, quando si viene delusi da un amore, da una relazione, significa che stai affrontando un lutto. Ogni lutto, ogni elaborazione del lutto inizia con la rabbia. Se non c'è rabbia, io quel lutto non lo supero, rimango lì, ancorato lì. E questo ce lo spiega bene anche la canzone poeticamente, la canzone di Marrakesh. Devi odiare l'altro, almeno per un lasso di tempo, l'immagine dell'altro, perché devi distruggere l'immagine che avevi di ciò che vi legava, per poi ricostruire una storia nuova, una storia che possa corrispondere a ciò che è stato, per usarla a tuo favore. E la rabbia ti serve anche a debellare i sensi di colpa, sensi di colpa che, quando siamo delusi, ci sommergono. Perché pensiamo, cominciamo a pensare, ci inizia a innestare un'idea malata, un'idea distruttiva, che ci dice Cacchio, che mi sono fatto fare? Che cosa mi sono fatto fare? E allora mi sento in colpa, ma quel senso di colpa ti sta solo bloccando, sta solo bloccando il tuo processo di rinascita, di spurgo, e quindi distruggilo con la rabbia. Che è un'emozione preziosa. Frustrazione. E qua entriamo nel viva, a cosa mi può servire la frustrazione? Frustrazione. Secondo Freud, scusate, può servire la delusione. Secondo Freud, la psicoanalisi, la delusione è frustrazione. La chiamava così, in termini psicoanalitici. Ovvero quel processo secondo il quale io riesco a sviluppare una parte di me, del mio io, del mio inconscio, della mia persona, solo attraverso una delusione. Solo attraverso una rottura. Allora, altrimenti quella parte rimane lì, sopita. Se io mi deludo, allora infrango tutta la torre d'avorio che mi ero costruito e che mi stava danneggiando. Se io non mi deludo e scopro veramente chi sono. Se io invece non mi deludo, rimango lì. Quindi frustrazione è fondamentale per scoprirsi, per rinascere. E infine, soltanto dopo che abbiamo abbattuto questa torre d'avorio, riusciamo finalmente a vivere. Si ricomincia a vivere. E a ritrovare se stessi, perché all'interno di un'illusione io smarrisco me stesso. Perché l'illusione mi fa talmente proiettare sull'altro o su noi, che perdo di vista a me. Perdo di vista la mia individuazione. Perdo di vista il mio fiorire. E quando invece abbatto quella torre d'avorio, finalmente posso riscoprirmi. Detto ciò, se ti è venuta voglia di illuderti e deluderti, ascoltati la canzone di Marrakesh. E iscriviti al canale, metti un like, condividi il video con chi ti ha deluso e accendi il campanino per la notifica per rompare dei prossimi video. Ciao! Ciao!